di fronte ad una situazione grave che coinvolge la salute fisica e psichica le persone tendono a reagire in due modi differenti ci sono quelli che esagerano la gravità della situazione e quindi sopravvalutano il pericolo in genere sono un po ansiosi e poi ci sono quelli che sottovalutano la gravità e questi tendono ad essere egocentrici e narcisisti è difficile stare nel mezzo rispetto a queste due reazioni contrapposte in quanto è difficile essere realisti anche perché quando rischiamo di ammalarci scende in campo la paura e tendiamo a regredire ci sentiamo sempre più piccoli e indifesi se siamo impauriti abbiamo bisogno di affidarci alle cure di una figura genitoriale nel pericolo regrediamo cioè torniamo indietro e così mettiamo in atto comportamenti ed atteggiamenti di quando eravamo ragazzi oggi la gente è chiusa in casa e si può sentire come quando non lavorava ancora ecco che la regressione è frequente in questa situazione così tendiamo ad affidarci a qualcuno che ci possa sostenere sia esso un maestro un genitore un familiare e allora c'è chi legge chi ascolta musica ma la cosa importante è pensare positivo la cosa importante è muoversi facendo qualcosa di pratico come lavare i piatti pulire la casa mettere ordine e soprattutto respirare correttamente altrimenti con poco ossigeno il cervello si ripiega su se stesso e diventa ancora più pessimista la respirazione è fondamentale per mantenere il benessere un'altra cosa essenziale è capire che ognuno di noi vive il pericolo della malattia con un suo stile personale ognuno vive la malattia in funzione del suo carattere e della sua personalità e questo vale per tutto persino per le teorie scientifiche che in qualche modo risentono della personalità di chi le formula ora la vita è una ricerca della propria verità psicologica un riconoscimento costante della nostra equazione personale e questo è un compito al quale ognuno di noi è chiamato come dice jung il mondo è la mia psicologia pertanto la reazione che ognuno di noi ha alla paura la paura del contagio per esempio è una specie di carta di identità psicologica questa reazione parla di noi dei nostri complessi delle nostre vulnerabilità e di come le affrontiamo allora cosa dobbiamo fare beh dobbiamo smettere di essere chi siamo per trasformarci in chi potremmo diventare se consideriamo tutte le persone che hanno problemi psicologici ci accorgiamo che hanno qualcosa che le accomuna hanno tutte perso la capacità di essere creative di diventare cioè quello che potrebbero essere e non sanno togliersi di dosso i vecchi abiti mentali quindi non riescono a trasformarsi in cosa potrebbero diventare vedete ci sono regioni del nostro cuore che con il tempo sono diventate inviolabili sono come un bunker nel quale noi stessi non abbiamo più accesso ed ecco che arriva la paura che è paura di tutto di ogni cosa ma ognuno deve confrontarsi con un particolare problema il cui scopo è quello di aprirgli nuovi orizzonti e di rivelargli chi è chi potrebbe essere noi siamo fatti soprattutto di immaginazione abbiamo questa straordinaria capacità che ci distingue come esseri umani sappiamo immaginare il che significa anche che sappiamo creare progetti e allora se la paura è la testimonianza del tradimento di una volontà creatrice dentro ognuno di noi allora la capacità immaginativa è proprio la risposta che apre ad un possibile futuro qui il vero pericolo è quello di non fare la cosa giusta cioè immaginare creativamente il nostro futuro bene io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 specificando il vostro nome cognome i vostri orari preferiti e scrivendo questo messaggio come funziona la consulenza poi potete visitare anche il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video sono presente anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia a presto